Amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati e bentornato all'amico carissimo Enrico Petrucci. Ciao Enrico, bentornato. Ciao a tutti. Questa volta non c'è l'amico Mastrangelo, ma torneranno presto in coppia per regalarci altre puntate sulle distopie, quindi continueremo questo filone dell'Orizzonte degli Eventi dedicato a questi libri che hanno in un certo senso prefigurato il nostro presente e speriamo non prefigurino direttamente il nostro futuro. Questa sera comunque Enrico Petrucci viene a presentare un suo libro dedicato a un grande maestro del cinema italiano, quindi torniamo a parlare di cinema e torniamo a parlare anche di neorealismo, perché ci occuperemo appunto di un grande maestro che ha inventato il neorealismo, come ci spiegherà Enrico, un grande maestro che è Alessandro Blasetti. Parliamo di tante piccole sfumature della figura di questo grande maestro nel libro che gli ha dedicato Enrico Petrucci, che naturalmente vi invito a leggere e a divulgare perché è veramente una lettura piacevolissima e anche straordinaria per quanto riguarda appunto la storia non propriamente conosciuta nel nostro grande cinema. Allora io, se permetti Enrico, leggo due righe brevi dalla presentazione del tuo libro sul sito di Idrovolante Edizioni, che è l'editore appunto di questo tuo libro che si intitola Alessandro Blasetti, il padre dimenticato del cinema italiano, appena uscito, uscito a luglio. Allora, leggo dalla presentazione. Alessandro Blasetti è un padre del cinema, a malapena però si ricordano i titoli di qualcuno dei suoi film, La corona di ferro, La cena delle beffe, Quattro passi tra le nuvole. Eppure, senza Blasetti, il grande schermo, per come lo conosciamo, non esisterebbe. Fu mente e braccio della nascita del cinema italiano alla fine degli anni venti. Come regista fu precursore del neorealismo, almeno in due occasioni distinte, del low fantasy, del cinema episodi, dei documentari di exploitation e della fantascienza distopica televisiva. Ideò la Scuola Nazionale di Cinematografia, fu maestro dei piani sequenza quando ancora nessuno sapeva cosa fossero e scopritore di talenti dietro e davanti alla macchina da presa, da Alida Valli a Pietro Germi. Eppure rimane sullo sfondo della storia del cinema. Era il regista con gli stivali nelle caricature degli anni 30 e in quelle del dopoguerra. Steno lo definì affettuosamente cowboy del quadraro. Ma forse Blasetti fu proprio come il gatto delle favole che prese il nostro cinema orfano per portarlo alla grandezza che gli spettava. Ecco, questo maestro come mai è stato dimenticato? Allora, è stato dimenticato per tanti motivi e in tante occasioni diverse. Innanzitutto perché fu un fascista della prima ora e fu anche determinante nella costruzione del cinema fascista e nel dopoguerra divenne un fascista non pentito, anche se poi ovviamente prese le distanze. D'altra parte, come accenno all'introduzione, lui negli anni 30 e 40 contribuisce a definire quello che poi diventerà il neorealismo. Ma nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, cercherà di far ripartire il cinema italiano tenendosi ben lontano dal neorealismo. Anzi, nel 1950 a Venezia dichiara che la fase dei film neorealisti con gli attori presi dalla strada deve finire perché quello che si mette a rischio è proprio la professionalità del cinema italiano che lui aveva contribuito a forgiare negli anni 30 e, tra virgolette, far ripartire nel secondo dopoguerra. Diciamo che Blasetti salvò il cinema italiano due volte. La prima volta alla fine degli anni 20 e la seconda dopo la seconda guerra mondiale. Proprio perché il cinema italiano negli anni 20 attraversò una profondissima crisi e, ovviamente, nel secondo dopoguerra ci fu una crisi ancora più forte che Blasetti provò a risolvere non con il neorealismo di cui dall'orizzonte degli eventi già si è parlato, ma con i grandi colossal. Lui nel 1949 realizza una coproduzione italo-francese, un peplum fabbiola cristiani, antica Roma belve nel Colosseo che ebbe un buon successo fu prodotto dall'Universalia una casa di produzione oggi scomparsa che all'epoca, diciamo, era considerata in odore di Vaticano e che vedeva proprio nel riportare un colossal quindi grosso lavoro di scenografie e grosso lavoro di comparse e grosso lavoro di costumi per far rinascere e far diventare quella cinecittà l'Hollywood sul Tevere che poi sarebbe diventata negli anni 50. Quindi una personalità eclettica che ben si riassume in questa idea del personaggio delle favole. Lui nasce a Roma nel 1900, cifra cifra tonda, da parte paterna sono artisti, il nonno è scultore, il padre è nell'orchestra di Santa Cecilia e questo sarà determinante in più di un'occasione, mentre da parte di madre lui la definisce esponente della borghesia nera romana, quindi quella classe di avvocati, notai, faccendieri che vivevano intorno, diciamo, alla nobiltà romana. Lui nasce a Roma, ma per le tournée del padre viene mandato in collegio, a Spello, in Umbria, che è un paesino tra Foligno e Assisi. Interessante perché poi gran parte del cinema di Blasetti insisterà molto su questo elemento della provincia italiana, che però Blasetti cercherà di leggere all'americana. In che senso? Negli anni 20 e 30 si incomincia a dibattere, uno dei capofila è longanesi, di Strapaese, quindi questa corrente intellettuale, artistica, che vuole riportare, diciamo, la provincia al centro dell'idea stessa di italianità. A questa si contrappone, invece, Stracittà di Bontempelli, del movimento, diciamo, un po' più strutturato. A prima vista si potrebbe considerare che Blasetti appartenga a Strapaese, proprio perché in molti suoi film, appunto, c'è un ritratto quasi di Liego della provincia italiana. In realtà lui è amico di Bontempelli, quindi più vicino alle posizioni di Stracittà, e soprattutto lui sente molto quella che poi è la propaganda indiretta di Hollywood. Cosa fa Hollywood? Cosa faceva dagli anni 20 e cosa ha continuato a fare fino adesso? Prendere storie americane, anche storie della provincia americana, come anche il Western, e farlo diventare una sorta di immaginario collettivo valido per tutto il mondo. Quindi l'idea di Blasetti è un'idea della provincia un po' emancipata da certi stereotipi della commedia all'italiana, anche se poi Blasetti è uno che anche negli anni 30, quindi sotto il fascismo, si diverte a giocare entro i margini con il dialetto. Fin da bambino rimane appassionato di cinema, quindi del cinema in piazza, dei primi film che si vedevano come il grandissimo Cabiria di Pastrone. Che poi era Torino la città all'inizio, la Hollywood italiana era Torino. Un po' in tutta Italia, comunque sì, Torino era quella centrale e soprattutto negli anni 10 il cinema italiano era il cinema più importante del mondo. Cabiria era un colossal tale che è il primo film che viene proiettato alla Casa Bianca. Gli americani rimangono talmente colpiti dal modo di girare di Pastrone che, non essendoci ancora le ottiche per fare gli zoom, si inventa una carrellata, quindi sposta il carrello in avanti e crea questa zoomata antelitterum che per gli americani diventa il Cabiria Shot. Quindi il cinema italiano degli anni 10 era qualcosa appunto all'avanguardia. Cosa succede dopo la Prima Guerra Mondiale? C'è la crisi economica e soprattutto il cinema italiano che si vendeva a scatola chiusa smette di innovare. Quindi l'avvolgere di pochi anni da primo cinema al mondo diventa dietro Hollywood, dietro la Germania, tant'è che molti professionisti del cinema, registi, costumisti, scenografi vanno a lavorare in Germania, vanno a lavorare negli Stati Uniti. Dall'America provano a creare degli studio a Roma per girare il Colossal, un Nerone e un Covadis, però le cose appunto non vanno bene. Piano piano il cinema italiano sta perdendo tutte le sue professionalità. quindi quando Blasetti compie vent'anni, si congeta dall'esercito perché poi aveva fatto, era entrato come ufficiale all'Accademia Militare di Torino e questa qui è una cosa diciamo che gli tornerà perché appunto lui diventa il regista con gli stivali, il regista con decine di fischietti al collo che si pone quasi in maniera militaresca, tant'è che nel film di Lucchino Visconti con Anna Magnani, bellissima, dove interpreta se stesso, quando appunto caccia via Walter Chiari, il faccendiere che aveva messo nei casini la figlia di Anna Magnani, lo caccia a passo di marcia, quindi rimane questo retaggio militaresco. Quando prova appunto a entrare nel cinema, non ci sono sbocchi, non c'è lavoro nemmeno da comparsa, quindi si iscrive all'università, si laurea in giurisprudenza e si mette a lavorare in banca. Banca commerciale triestina, quella dei Kosolic, un nome che poi ritornerà, però appunto rimane il desiderio di fare cinema. Quello che è determinante in questa fase, a ridosso della marcia su Roma, Blasetti ha già preso la testa del PNF e decide di entrare nel 23 nella redazione di un giornale, L'Impero viene pubblicato fino alla prima parte degli anni 30. Giornale fascistissimo e futurista, lo fondano Mario Carli ed Emilio Settimelli, futuristi della prima ora, Carli era stato anche ardito durante la Grande Guerra, entrambi, sia Carli che Settimelli, legionari a fiume, dall'Impero usciranno praticamente quasi tutti i direttori di quotidiani o periodici gestiti dal PNF e ci collaborano quasi tutti i futuristi, quindi è un giornale dove ci stanno gli articoli di Marinetti, le vignette di Balla, i fratelli Prampolini, quindi Blasetti inizia a frequentare questa redazione come critico di operetta e poi come critico cinematografico. Non è il primo critico cinematografico, però è il primo che prova, diciamo, a fare anche una valutazione tecnica, un discorso tecnico sui film. All'Impero rimane fino al 1925, poi continuerà a collaborare con altri giornali come il Tevere, però quello che decide di fare è lui vuole rifondare il cinema italiano, pensa che l'interesse che c'è con l'avvento del fascismo può portare a qualche soluzione da quel punto di vista, anche se teniamo presente Cinecittà con quello striscione per l'inaugurazione che dice il cinema è l'arma più forte, verrà completata solo nel 1937, perché poi di fatto la messa in pratica dei meccanismi di propaganda del fascismo sarà molto più graduale di quanto si può pensare, e quindi decide di fondare una serie di riviste. La più importante è Cinematografo, questa rivista qua, che va avanti fino al 31, in cui Blasetti chiama a sé tutta una serie di giovani che poi diventeranno sceneggiatori, costumisti, direttori della fotografia, scenografi, quindi piano piano intorno a sé incomincia a creare questo circolo di appassionati di cinema. Quello che colpisce oggi di cinematografo è proprio la valenza tecnica della rivista. Ci sono addirittura i, tra virgolette, concorsi per i lettori in cui viene fatta vedere, viene pubblicata nella rivista una foto dietro le quinte di un film di Hollywood e si dice di indovinare che tipo di sequenza deve essere girata, oppure foto di scena, come ritagliare un primo piano, come deve essere appunto costruite le luci, quindi si va a creare degli esperti di cinema, esperti sulla carta, proprio perché il grosso del cinema italiano alla fin fine era andato tutto all'estero, fuga dei cervelli antelittere. La rivista cinematografo va avanti dal 27 fino al 31, nel 29 Blasetti è convinto di potersi mettere in gioco in prima persona, di fondare una casa di produzione e girare un film, praticamente da zero con questo gruppo di, oggi diremmo con questo gruppo di nerd, con questo gruppo di appassionati. Tant'è che la sceneggiatura di fatto arriva quasi come se fosse un concorso interno come altri film di Blasetti, come il famoso 1860 sui mille di Garibaldi. Questo film vuole ammiccare ovviamente al fascismo e quindi è un film sulla bonifica. Il titolo è Sole, crea praticamente questa casa di produzione da zero, con, diciamo, partecipazioni piuttosto eterogenee, ci mettono i soldi, Bottai, i Kosulich della banca commerciale Triestina gli danno una grossa mano rilevando un vecchio studio di produzione, quindi riesce a fare questo film muto. Film muto perché ancora non ci sono i mezzi per fare cinema sonoro. Il film piace, riscuota interesse, però di fatto non c'è distribuzione, quindi di fatto l'Augustus, la casa di produzione di Blasetti, fallisce. In questa fase in cui in Italia si facevano pochissimi film, comunque quello che tenta Blasetti e soprattutto che riesce a fare praticamente da zero, comunque ha una discreta risonanza nella stampa e colpisce diciamo quello che dalle pagine della rivista, dalle pagine di cinematografo era l'arcinemico di Blasetti, l'oggetto di tutti gli strali del futuro regista, ovvero Stefano Pittaluca, un imprenditore genovese che era distributore, quindi lui aveva le sale cinematografiche e importava i film soprattutto dagli Stati Uniti e nelle varie asti fallimentari che si erano susseguite negli anni venti aveva rilevato via via tutte le case di produzione italiane, però case di produzione che erano rimaste scatole vuote perché l'unica cosa che si produceva di film in Italia negli anni venti erano i film di Maciste. Da Cabiria il personaggio di Maciste aveva dato vita a una decina di film sostanzialmente tutti uguali, quello che cambiava era l'ambientazione, Maciste contro gli austro-ungarici, Maciste nel deserto arabo e così via quindi quelli erano gli unici film che si facevano in Italia forse diciamo una situazione non così diversa da quella contemporanea tant'è che anche Mario Camerini regista molto importante che poi tra il 29 e il 30 quindi quando Blasetti fa Sole riesce ad autoprodursi Kiftebbi e soprattutto Rotaglie nel 29 che è un film tuttora riconosciuto importante in quella fase Camerini lavorava la Cines Pittaluga faceva lo sceneggiatore e il regista alla fine il suo compito era diventato tradurre e fare i cartelli per i film americani quindi una situazione al collasso però Pittaluga era un signor imprenditore quindi quando si rende conto che ci sono nuove professionalità per far rilanciare il cinema che il regime incomincia a capire che è una cosa su cui si può investire decide di restaurare completamente la Cines di Roma gli studi di Viaveglio creare un nuovo teatro di posa sonoro e assumere Blasetti e di fatto tutti quelli che collaboravano con Blasetti a cinematografo assieme a tutti gli altri diciamo registi compresi quelli che erano andati all'estero quindi nel 1930 di fatto nel giro di due o tre anni a Roma si riesce a far ripartire il cinema italiano a giocare quasi allo stesso livello di Hollywood a Blasetti Pittaluga lo incarica di fare il primo film sonoro siccome lui è quello giovane quello capace con tutto che dalle pagine del Tevere diceva che l'Italia non poteva cimentarsi con il sonoro ma semplicemente perché non c'erano i mezzi gli affida appunto questo film che si intitolerà Resurrectio e che per problemi di produzione in realtà non sarà il primo film sonoro italiano ma diventerà il secondo perché il primo è la canzone dell'amore di Righelli probabilmente Blasetti si era fatto un po' prendere da certe manie di grandezza che lo caratterizzeranno per tutta la sua vita perché poi lui sarà il regista dei Colossal come la Corona di Ferro o appunto il Fabiola che abbiamo già un po' raccontato quindi il film diciamo arriva lungo è un film molto sperimentale ma comunque interessante sia perché appunto c'è un ragionamento sul personaggio sul protagonista quasi all'americana Blasetti ha ben compreso il viaggio dell'eroe quindi c'è un protagonista con una crisi c'è un momento catartico un momento in cui di riscatto in cui si deve liberare un elemento che poi ritroveremo in molti film di Blasetti questa dicotomia tra dovere inteso come dovere sociale delle forze armate della società del retaggio nazionale e invece un desiderio di fuga di disimpegno è interessante che Blasetti viene coinvolto per fare il film di Nerone di Petrolini quello di cui oggi rimane quel piccolo sketch della Roma sarà ricostruita più bella che Pria bravo grazie questo film è perduto perché probabilmente per un errore di montaggio venne distrutta la pellicola è interessante perché da quello che sappiamo Blasetti vuole sperimentare deve fare cinema del teatro però non vuole banalmente riprendere Petrolini al teatro quindi sul piano narrativo crea questa situazione per cui Petrolini non può lasciare il teatro e si immagina come inizio del film sia Petrolini che legge i titoli di testa perché appunto c'è il film sonoro e vuole fare una carrellata che parta dagli spettatori e vada in un primo piano di Petrolini problema con le telecamere dell'epoca montate su carrelli una cosa del genere non si poteva fare quindi realizza praticamente una fila finta di spettatori monta il carrello su ruote di camion passa con questo carrello sopra gli spettatori che devono abbassare la testa quando arriva la macchina da presa e fa questa zoomata purtroppo è perduta però appunto resta traccia dell'idea anche perché già il resurrectio aveva cominciato a sperimentare con piani sequenza l'apertura di resurrectio è un piano sequenza di circa un minuto un minuto e mezzo di solito il primo grande piano sequenza del cinema è considerato l'apertura di Scarface di Howard Hawks che dura circa tre minuti piuttosto significativo però Blasetti in tutti i suoi film incomincia a utilizzare il piano sequenza non soltanto come escamotage registico per un virtuosismo tecnico ma anche come un elemento narrativo come vediamo appunto in Terra Madre Terra Madre è la storia di un gruppo di contadini che sono i mezzadri di un duca duca giovane che spende tutti i suoi soldi nel bel mondo della Roma notturna le classiche mollezze borghesi contro cui si scagliava il fascismo in questo caso appunto il duca di turno si dovrà riscattare e diventare non soltanto amministrare il feudo come faceva il padre ma di fatto facendo qualcosa ancora di più diventando di fatto lui stesso il fattore esposando la figlia del fattore ma l'elemento più interessante è una sequenza che poi ritroveremo in altri film di Blasetti compreso l'ultimo film di Blasetti il Simon Bolivar ovvero realizzare un piano sequenza in cui si parte dall'interno quindi dalla festa borghese e va verso l'esterno in cui si va non a unire ma a osservare la festa dei contadini quindi un piano sequenza di quasi due minuti particolarmente sfidante anche perché si passa da un interno a un esterno in notturna o meglio un notturno apparente perché poi Blasetti praticamente come scriverà è quello che inventa per girare in notturna in realtà girare al crepuscolo girare all'ora di mezzo come si dice questo film conferma in una certa critica di allora di cui è capofila il longanese di strapaese che dicevamo prima che Blasetti di fatto è un provinciale e che copia cinema sovietico perché ci stanno i contadini quindi per longanese quello è cinema sovietico in realtà fino a quel momento Blasetti non aveva mai visto un film sovietico e come faccio notare io ma appunto lo fa notare anche Vito Zagario che è regista e critico di fatto lui al netto di qualche sequenza che effettivamente sembra strizzare l'occhio al cinema sovietico più interessato al mondo americano quindi al western quindi c'è uno strano ibrido in cui non volendo appunto si cerca un equilibrio tra i due generi anche perché rispetto al cinema sovietico è un cinema molto di immagini di potenza visiva appunto abbiamo detto Blasetti c'è il viaggio dell'eroe c'è il turning point l'aveva capito che per appassionare lo spettatore servivano questi schemi siamo nel 31 quindi la Cines sta andando alla grande muore Stefano Pittaluga che era stato l'imprenditore illuminato che aveva rilanciato il cinema italiano il fascismo appunto al momento si tiene ancora fuori dall'intervenire direttamente nella produzione Cinecittà è del 37 la direzione generale per la cinematografia è del 34 in questa situazione di passaggio Blasetti completa Palio che è un film sul Palio di Siena prende un'idea un soggetto che era arrivato alla Cines da Luigi Bonelli da cui poi verrà tratto negli anni 60 la ragazza del Palio ispirato proprio alla figlia di Bonelli questo film appunto racconta del Palio di Siena storia d'amore tradimenti tra le varie contrade la cosa interessante è che la contrada era quella della selva per l'adattamento diventa romanamente quella della lupa film interessante perché la sequenza finale con la ragazza Leda Gloria che corre per questa Siena deserta perché sono tutti in piazza del Palio assolutamente di livello un po' diciamo contorta la sceneggiatura interessante perché anche qui troviamo il tema delle due feste la fiesta della borghesia e la festa dei contradioli qui c'è anche come caratterista uno di quelli che poi diventeranno gli attori feticcio di Blasetti ovvero Umberto Sacripanti alla Cines alla direzione arriva Emilio Cecchi intellettuale toscano che vuole innalzare ulteriormente il livello tant'è che lui sarà quello che porterà Mario Soldati alla Cines effettivamente contribuirà a sgrossare un po' il lavoro di sceneggiatura di Blasetti che sarà sempre sceneggiatore accreditato dei suoi film diciamo sempre in qualche modo l'ultima parola e la cosa interessante è che Emilio Cecchi è il padre di Suso Cecchi d'amico sceneggiatrice famosissima appunto poi nella commedia italiana negli anni 50 e 60 e in un ricordo di Suso Cecchi d'amico c'è questo primo incontro con Blasetti siamo nel 31 quindi Blasetti aveva 30 anni la Suso Cecchi d'amico era 16enne con il padre che vanno a vedere questo fantomatico sole e rimane colpito da Blasetti che molto teneva la sua immagine pubblica non è che di fatto il regista che rende famoso il basco per i registi lo inventa lo inventa lui che all'inizio pensa la la giovane Cecchi d'amico che lui sia l'attore il protagonista anche perché siamo in un'epoca quella degli anni 20 degli anni 30 ma di fatto fino alla Nouvelle Vague fino agli anni 50 il luoro del regista del direttore artistico come si diceva allora era un po' secondario il film erano gli attori non non i registi sempre in questa fase appunto per far capire come si poneva Blasetti il primo incontro con Mario Soldati che rievocherà poco dopo la morte di Blasetti se non sbaglio Mario Soldati è più giovane di sei anni di Blasetti quindi era lui il ragazzino che arrivava alla Cines e lo rievoca appunto anni di distanza come se quello giovane di due fosse Blasetti il primo lavoro della Cines di Cecchi di Blasetti è un film molto interessante perché Blasetti nella sua vita qui forse un po' esagero però farà come Kubrick sperimenterà qualunque tipo di genere e quindi fa anche una commedia napoletana ovvero La tavola dei poveri di Raffaele Viviani Raffaele Viviani è un attore e autore teatrale napoletano famosissimo dagli anni 10 fino a tutti gli anni 40 e oggi completamente rimosso con tutto che lui era un antifascista quindi vengo a dire stato rimosso per altri motivi quindi il film è di fatto un'opera di Viviani anche qui Blasetti mette i suoi guizi di regia la storia di un nobile decaduto che fa di tutto per nascondere questa sua povertà è interessante all'inizio un piano sequenza tutto in esterna dove di fatto vediamo questo nobile decaduto e la figlia con la figlia che cerca per i vari negozi di farsi comprare di vedere le vetrine e Viviani quasi come un circense cerca di evitare ostacoli distrarre la figlia e così via tutto girato con un piano sequenza quindi il piano sequenza appunto non è più soltanto il virtuosismo di regia ma diventa un elemento narrativo quindi anticipando quello che faranno poi i registi di fase successiva anni 40 anni 50 come Max Hofus o il russo Kalatazov completato la tavola dei poveri Blasetti inizia a lavorare sempre su indicazioni di cecchi su quello che diventerà uno dei suoi film più famosi e più apprezzati dalla critica forse l'unico film apprezzato dalla critica di Blasetti 1860 o i mille di Garibaldi film che la prima volta che Blasetti inventa il neuralismo perché Blasetti vuole fare un film antiretorico Blasetti è convintamente fascista vuole fare film di propaganda ma non vuole la propaganda di carta pesta lui vuole fare la propaganda all'americana quella che nasce indirettamente dalla storia e quindi racconta un picciotto siciliano in rivolta contro i Borboni che fa un viaggio al nord per cercare di dire a Garibaldi e ai Garibaldini di affrettarsi a venire viaggio in cui incontrerà tutti i vari tipi di patrioti italiani del periodo quindi quelli che speravano nell'intervento del Papa quelli che sperano nell'intervento diretto di Savoia quelli che speravano nella Confederazione costruendo gag anche abbastanza moderne come ad esempio i due che iniziano a litigare in treno avendo punti di vista diversi e poi si fanno fregare il posto dalla soldataglia tedesca come a dire vedi se noi litighiamo poi gli stranieri ci fregano il posto e per fare questo ha l'idea di chiamare degli attori non professionisti quindi Garibaldi lo vedremo di spalle soltanto alla fine in cui di fatto quello che vuole dire Blasetti è che Garibaldi è l'uomo tra virgolette della provvidenza l'uomo d'azione laddove i politicanti parolai non riescono a mettere insieme nulla però arriva solo alla fine e tutto è visto invece da persone comuni film così valido e così interessante che andrà in sala solo nel 34 la direzione generale della cinematografia dirà non si capisce troppo bene il messaggio facciamo alla fine una sfilata dei balilla che rendono omaggio ai reduci Garibaldini perché il messaggio non è chiarissimo effettivamente non erano tutti torti perché nel 48 i mille di Garibaldi tolto il finale diventa un film che quelli del partito comunista facevano vedere per convincere a votare Garibaldi quindi la propaganda dei blasetti era fatta così bene che taglio due sequenze e quello che va bene per i fascisti va bene per i comunisti però alla CIS di Cecchi le cose non vanno tanto bene perché Cecchi fa il passo più lungo della gamba vuole produrre un film che unisca pubblico e critica è acciaio il film con il soggetto di Luigi Pirandello chiamano dalla Germania un grosso regista espressionista Rootman per fare questa grossa produzione il film è un flop nel frattempo c'era 1860 che ancora non era uscito viene realizzato un altro film ragazzo Divo Perilli che però ha un problema con la censura fascista che blocca l'uscita del film anche se paradossalmente questo qui era un film 100% fascista perché era la storia di un ragazzino che finisce nel giro della criminalità e poi si riscatta proprio grazie al fascismo però evidentemente il messaggio non era troppo lineare o c'erano beghe interne tra gerarchi e papaveri del PNF romano quindi questo film non esce di fatto la Cines in quella fase va fallita e poi viene distrutta da un incendio nel 35 il motivo per cui poi si edificherà Cinecittà nel frattempo però Blasetti non sta con le mani in mano perché oltre a lavorare a un film per il decennale della rivoluzione fascista è tra i primi promotori assieme ad Antonio Giulio Bragaglia sempre Bontempelli di mezzo di quello che poi diventerà il centro sperimentale di cinematografia cioè bisogna fare una scuola di cinema per formare attori registi e pian piano tutte le specialità del cinema all'inizio non si chiama ancora centro sperimentale si chiama scuola nazionale di cinema nasce come spin-off diciamo in un sotterraneo di Santa Cecilia perché lui tramite il padre ha delle conoscenze i primi anni sono un po' tumultuosi perché innanzitutto si appoggia la Cines ma la Cines sta andando a rotoli tant'è che molte volte Blasetti deve improvvisare una cosa molto citata i giovani di allora comunque sia erano nati negli anni del muto quindi c'era questo oggi lo chiamiamo overacting mentre lui Gianni in 1860 era attento all'elemento realista decide di portare i ragazzi al Santa Maria della Pietà a vedere i matti nel manicomio provinciale romano oppure invita i ragazzi a visitare il set il problema è non soltanto nelle sue ore di lezione ma anche nelle ore di lezione degli altri docenti o fino a cose un po' più come dire che oggi sarebbero chiaramente definiti inopportune ovvero far tirare di scherma le aspiranti attrici in costume da bagno quindi varie polemiche però alla fin fine nel 1934 questo nucleo diventa poi il centro sperimentale di cinematografia Blasetti inizialmente è estromesso poi alla fin fine rientra e poi sarà determinante nel come appunto abbiamo letto nella quarta di copertina e lui a portare dentro i tavalli e lui a portare dentro Pietro Pietro Germi quindi un po' per tutta quella generazione che è nato tra gli anni 10 e gli anni 30 quindi fino agli anni 60 è Blasetti quello che insegna a fare cinema perché poi appunto col fatto che quelle di Blasetti erano tutte grosse produzioni costumisti scenografi e così via tutti a lavorare per lui siamo nel 33 34 il fascismo deve festeggiare il decennale della presa del potere c'è la mostra della rivoluzione fascista anche Blasetti si vuole cimentare con un film per celebrare quegli anni realizza un soggetto che però non vedrà la luce perché è un film ad alto budget si intitolerebbe Locomotiva 6852 il mio libro è il primo che ne parla non mi risultano articoli che abbiano già dato spazio a questa sceneggiatura che narra la storia di un ferroviere dal 1914 al 1933 con gli scioperi e ovviamente l'avvento al potere del fascismo interessante perché all'inizio del film il bambino il figlio del ferroviere saliva di nascosto sulla locomotiva per vedere come funzionava nel finale c'è un locomotore elettrico lo conduce il macchinista il figlio del ferroviere è diventato adulto e il padre il vecchio ferroviere sale di nascosto per vedere come funzionavano le locomotive elettriche questa idea appunto del narrare la storia di quei dieci anni di quei vent'anni dalla prima guerra mondiale attraverso una macchina la ritroviamo in una operazione teatrale che fa Blasetti a Firenze grazie ad Alessandro Pavolini tirato dentro da Cesare Pavolini fratello di Pavolini il federale di Firenze che hanno l'idea per i ritoriali di fare una cosa in stile sovietico i sovietici avevano fatto di fatto inventano il re-enacting storico con la presa del palazzo d'inverno i fascisti fiorentini decidono che devono farlo anche loro però vogliono metterci dentro una trama tante teste a parlare non si decide hanno l'idea ovviamente di chiamare il decisore quello che Blasetti Blasetti prende questa storia l'idea era far parlare tutti attraverso un camion 18 BL l'autocarro della prima guerra mondiale l'autocarro degli squadristi Blasetti in una cosa molto moderna e copiando non tanto Marinetti ma Bontempelli che aveva scritto un racconto novella in cui una macchina un'automobile parlava di sé in prima persona dice di far diventare il protagonista il camion l'autocarro l'autocarro della grande guerra l'autocarro degli squadristi l'autocarro delle bonifiche l'operazione è un flop perché sono 3.000 comparse 20.000 aspettatori servivano i maxischermi chiaramente all'epoca i maxischermi non c'erano quindi se ne parla sulla stampa la cosa interessante è che il finale di 18 BL è la leggenda di fondazione di Littoria oggi latina per chi ha letto Canale Mussolini o i libri di Pennacchi Pennacchi racconta sempre questa storia del camion che il giorno prima dell'inaugurazione viene sotterrato in piazza per colmare una buca questa cosa avviene da 18 BL dove l'ultima battuta è hai sostenuto la guerra hai sostenuto gli squadristi adesso sosterrai la strada per Littoria quindi si cimenta con questa operazione appunto assolutamente fuori scala per l'epoca e poi torna a dirigere quello che è quello che verrà definito nel dopoguerra come l'unico film veramente fascista di tutto il ventennio Vecchia Guardia una storia di provincia a ridosso della marcia su Roma e anche qui Blasetti reinventa il neorealismo un'altra volta perché? perché è un film quasi tutto girato in esterna il direttore della fotografia sarà poi il direttore della fotografia di Risonaro quindi a livello di costruzione e di luci siamo lì e poi c'è il ragazzino perché non è tecnicamente il protagonista perché il protagonista resta il padre però c'è questo ragazzino Mario che appunto ha un po' il punto di vista narrativo del film come farà De Sica nel 42 43 con i bambini ci guardano e poi in tutto il filone neuralista con i bambini che avete già parlato con Giannacone e Marchesini quindi film comunque interessante perché al netto del messaggio propagandista c'è tutto un gioco simbolico del portatore di luce degli scioperi che tolgono la luce elettrica il pazzo che fugge dal manicomio perché c'è lo sciopero degli infermieri la cosa interessante è che su questo film c'è un po' di gioco delle parti post bellico tra Luigi Freddi il direttore poi di Cinecittà e Blasetti nel dopoguerra poi Blasetti ha un po' gioco da dire ah ma questo film non piaceva ai fascisti con tutto che viene addirittura il ragazzino protagonista viene invitato in Germania incontra Hitler in persona per dire quanto poteva essere in viso alle gerarchie questo film Blasetti guadagna punti nel partito e quindi gli vengono offerte anche produzioni più grosse tra cui lo scipione l'africano il problema è che Blasetti pensa sempre in grande il film lo farà a gallone nel 37 perché Blasetti voleva fare appunto adesso c'è stato il film di Gibson poi il film il primo re la serie televisiva Blasetti è il primo che dice no devo fare un film sull'antica Roma lo giro tutto in latino per renderlo appunto un film proiettare e riprendere il retaggio di Roma idee troppo fuori dagli schemi e quindi si concentra su un film con la reggia marina che è un po' il proseguo di un film che la cine ha fatto con la reggia aeronautica che è Aldebaran film dove compare per la prima volta Elisa Cegani che di fatto diventerà un po' la compagna more oxorio di Blasetti anche se poi Blasetti non divorzerà mai rimarrà in un certo senso sempre fedele tra virgolette alla moglie è il primo film di Blasetti con Gino Cervi che contribuisce a lanciare non è un film neorealista però c'è qualcosa di neorealista anche qua perché è un film in cui il protagonista di turno anche qui dovere famiglia senso di fuga si riscatta cercando di salvare come palombaro il sommergibile affondato dove è rimasto dove è comandato dal fratello questa qui sostanzialmente gestita in maniera completamente diversa e poi l'idea che però sarà sviluppata tutta sul sommergibile di Uomini sul fondo di De Robertis il film del 41 che ha diretto da De Robertis documentarista con Roberto Rossellini come aiuto regista che sarà un altro dei film che sancirà poi l'inizio del neorealismo anche qua piano sequenze interessanti qui quasi rompe la quarta parete perché c'è un lunghissimo piano sequenza di questa festa borghese in un interno e alla fine con un gioco di scenografie vediamo di fatto l'inquadratura che esce fuori dall'edificio passando attraverso la finestra quindi ben costruito e memorabile il piano sequenza finale all'interno del sommergibile brevemente gli altri quattro film quattro cinque film che fa prima di arrivare alla corona di ferro che sono Lettore Fieramosca con Gino Cervi in cui rilegge il mito della della disfida di Barletta in maniera sia propagandista ma anche antiretorica l'entrata in scena di Ettore Fieramosca dell'Ettore Fieramosca di Gino Cervi sembra quasi presa dal trono di spade è a cavallo con la Clara Calamai in braccio che interpreta la la prostituta e appunto è un Fieramosca non così paludato in cui appunto c'è la scelta poi dell'eroe di superare diciamo il suo essere un un uomo al servizio di chi paga di più per riconoscersi in una casa poi fa due film che potremmo quasi definire telefoni bianchi anche se il mitologico telefono bianco non appare nel film che sono la contessa di Parma che è la storia d'amore tra un'indossatrice e un campione di calcio del Torino quindi trama abbastanza moderna interessante perché viene prodotto per sostenere praticamente la creazione dell'ente nazionale della moda a Torino quindi è un film tutto incentrato sul basta francesismi basta con questa storia della moda di Parigi la vera moda è Milano quindi propaganda però appunto è una cosa che probabilmente come dire ha avuto effetto di lungo periodo poi c'è retroscena commedia degli equivoci all'americana in cui si diverte a prendere in giro i critici che hanno criticato Lettore Fieramosca paragonandolo con l'Alessandro Oneschi di Eisenstein obiettivamente Blasetti è sicuramente più moderno Eisenstein come regista è intoccabile e soprattutto Eisenstein aveva la colonna sonora di Prokofiev Cicognetti come compositore non è male però oggettivamente c'è un po' di stacco e poi c'è del 39 un'avventura di Salvato Rosa che è una sorta di zorro primula rossa l'italiana con protagonista Gino Cervi belle coreografie di spada del maestro Musumeci Greco e incomincia ad avere un ruolo rilevante Osvaldo Valenti questo è il primo film dove compare Luisa Ferida e Osvaldo Valenti che poi appunto faranno coppia nella vita e fine fine tragica a Salone arriviamo quindi al 41 e alla Corona di Ferro il colossal degli anni 40 per eccellenza questa storia fantastica dove c'è dentro assolutamente di tutto Fellini ricorda il primo incontro di Blasetti proprio quando lui è ancora un giornalista che va sul set della Corona di Ferro dove c'è questo regista essato in cima a una gru con fischietti e megafoni che dà ordine a tutto intorno allora La Corona di Ferro è un altro di quei film che nel dopoguerra consentono a Blasetti dire sì sì io ero fascista non rinnego il fascismo però diciamo dopo il 35 36 quando la Spagna l'Etiopia e così via mi era un po' raffreddato io lo definisco appunto un trono di spade antelittera anche perché a livello di narrativo c'è un regicidio scambi di fratelli regni principesse fuggite nella giungla che fanno un po' le Robin Hood uno che diventa quasi un Tarzan incesti accennati stupri non così accennati un'ambientazione di fatto fantastica e pagana con una reliquia cristiana quindi c'è dentro di tutto Bontempelli lo definisce un pranzo di nozze con troppe portate in cui proprio non se ne esce non se ne esce e che può essere letto in molti modi Blasetti nel dopoguerra dirà che è un film sul pacifismo sul volemosebbene in un certo senso è così sul superare determinate cose però è anche vero che è un film che inizia con un regicidio d'opera del fratello la corona di ferro va bene c'è un aneddoto che poi mette in giro Freddy e poi Blasetti riprende che Goebbels alla mostra del cinema di Venezia quando guarda la corona di ferro dice ma che state facendo noi un film del genere il regista l'avremmo messo al muro la cosa interessante è che molti giovani critici che poi nel 45 qualcuno magari anche qualche anno prima prenderanno la testa del pc in quel periodo osannano i film tedeschi perché fanno veramente propaganda nazifascista e schifano cose come la corona di ferro comunque il film non piace la critica e quindi Blasetti un po' come con retroscena decide di dire no adesso faccio un altro colpaccio e fa la cena delle beffe film in costume preso da Sam Benelli che all'epoca era un autore teatrale famosissimo e questa sostanzialmente una tragedia di vendetta paralisabettiana la trasforma in quasi un revenge movie moderno con un ottimo Valenti che da antagonista in questo caso diventa il protagonista contro l'arrogante Nazari che è il primo film che fa con con Blasetti c'è anche la famosa scena di nudo sì in realtà Blasetti la scena di il seno nudo l'aveva messo già nel suo primo film perché c'è un quasi un fotogramma così c'è in Resurrectio c'era stato in Sole ma viene tagliato ci stanno dei balletti un po' osè sia in Aldebaran che in Ettore Fieramosca quindi c'è un nudo di una comparsa in la corona di ferro è il primo nudo della protagonista è il primo nudo di un'attrice di fama quindi avrà problemi con la censura e diciamo Blasetti poi nel nel dopoguerra un po' non è che si pentirà però dirà sono io che ho sdoganato un certo modo di fare cinema non me ne pento però credo che adesso si sia passato un po' il segno del del buonsenso più che del buon costume tant'è che poi in un film documentario Europa di Notte che darà vita poi ai mondo movie perché i mondo movie pure indirettamente sono una colpa di Blasetti perché Europa di Notte la voce narrante è Jacopetti che partecipando a quel film decide ok Europa di Notte di Blasetti è andato bene adesso facciamo una cosa ancora più forte e facciamo i mondo movie in realtà Europa di Notte è abbastanza soft perché si ci stanno i locali parigini c'è il Crazy Horse ma Blasetti è più interessato al pubblico che ha le spogliarelliste quindi non si vedrà poi non si vedono nudi in Europa di Notte e appunto la cena delle beffe è anche la famosa frase di chi non beve con me peste peste lo colgo dopo questo film riceve diverse proposte però appunto lui sta già capendo che andrà a finire male cerca di smarcarsi e quindi inventa il neuralismo per diciamo la terza volta con quattro passi dalle nuvole primo film con Zavattini alla sceneggiatura Gin Cervi rappresentante di Dolciumi che si finge il marito di una ragazza madre per cercare di tranquillizzare i genitori la cosa verrà presto scoperta però questo porterà sia una riconciliazione della figlia con i genitori che lui con un certa vita in campagna lui che ormai è in città e quindi aveva rinnegato un po' quella vita film che di fatto a parte diciamo la fotografia non ha nulla di neorealista per quello che intendiamo oggi come neorealismo quello appunto della puntata con con Giannaccone e Marchesini ma che è neorealista perché per quel periodo escono quattro passi tra le nuvole i bambini ci guardano di De Sica e ossessione che per come raccontava Giannaccone quelli di cinematografo erano il ritorno a un cinema neorealista e la parola neorealismo applicata al cinema è applicata proprio a ossessione un altro film che al di là della fotografia e di certe scelte di regia degli esterni non è così neorealista perché la storia è quella di Postino suona sempre due volte però appunto diventa il modo assieme a uomini sul fondo per andare a giustificare quella corrente che poi il neorealismo come lo intendiamo oggi appunto l'umanità stragiona post bellica come se fosse un qualcosa una lunga maturazione del cinema italiano che addirittura aveva fatto un film neorealista negli anni dieci ai tempi del moto sperduti nel buio un altro film oggi perduto che probabilmente non aveva nulla di neorealismo però appunto questa idea del realismo come qualcosa di intrinseco al cinema italiano questa riflessione era così in voga del fatto che non ci devono essere gli attori o forse l'attore diciamo filtrava troppo che tra nel 43 la Mondatori che all'epoca si stava cercando di riciclare anche come casa di produzione Luigi Freddi di Cinecittà hanno l'idea di fare un film sui ragazzi di Bire e il Gobbi il gruppo del giovani fascisti che ferma i carristi britannici e di fare interpretare il film ai reduci stessi del battaglione battaglione ovviamente decimato da feriti e mutilati ma appunto era un'idea che nel cinema italiano alleggiava quindi ipoteticamente se quel film fosse stato realizzato avremmo avuto un neorealismo fascista a tutto tondo film successivo anche questo storia interessante per come viene raccontato oggi è Nessuno torna indietro tratto da un romanzo di Alba De Cespedes scrittrice italo-cubana oggi un po' riscoperta che negli anni 30 ebbe i suoi beni problemi con l'ovra e che diventerà alla fine del 43 la voce di Radio Bari quindi del servizio operazioni speciali al sud questo romanzo fu un po' censurato dal Mincult Pop ma in realtà Mondadori non poteva permettersi di mandare Mincult Pop a quel paese e soprattutto per quanto l'autrice venne un po' oscurata di fatto tutto l'adattamento del film è narrato dalla stessa De Cespedes nel quindicinale film che è paragonabile al cinematografo diretto da Mino Doletti che è poi uno di quelli che andrà al salotto e oltretutto nel 40 o nel 41 quando Nessuno Torna Indietro viene tradotto in tedesco sul Corriere della Sera classico articoletto a i nuovi autori italiani che si fanno strada in Germania quindi per essere un romanzo come dire censurato dal fascismo bah questa è la storia di un gruppo di collegiali nell'ultimo anno di prima della maturità in una scuola cattolica il film viene completato nel 43 esce solo nel 45 viene anche un po' censuricchiato perché alcuni delle protagoniste andranno a Salò comunque diciamo è un ibrido un po' un po' teatrale un po' obiettivamente molte di quelle attrici sono trentenni a fare le parti delle diciassettenni stona un po' e poi si sente obiettivamente loro registravano quando Roma veniva bombardata quindi non è proprio un film particolarmente riuscito 44 45 Blasetti non va a Salò si dà la macchia lungo via Nomentana e si rifugia in un convento però sa bene che appunto quando la guerra finirà bisogna fare subito qualcosa per far ripartire il cinema italiano e lo fa con un film praticamente impossibile da reperire esiste solo la VHS e diciamo dove l'hanno leggiato fortunatamente quella collezione è finita la Cineteca di Bologna apparentemente non l'ho leggiato un mese prima che quella Cineteca storica di Via Nomentana chiudesse che è Un giorno nella vita un tentativo di Blasetti di fare un film impegnato di riconciliazione nazionale fuori dal neorealismo convento di clausura alle porte di Roma quando tedeschi e partigiani praticamente si contendono la zona è interessante per i dialoghi protagonista Medeo Nazari e per il tentativo appunto di far vedere come questo gruppo di partigiani sia rappresenti sostanzialmente tutte le anime di quello che poteva essere l'Italia del 44-45 quindi c'è quello che era stato convintamente sempre antifascista il reduce il militare reduce di tutte le guerre che l'aveva fatto per spirito di servizio e c'è addirittura l'ex squadrista che ha ucciso il marito della madre superiore che dopo l'uccisione del marito decide di farsi fuori film comunque interessante con un buon ritmo e che appunto oggi è completamente sparito dalla narrazione con tutto che vince nel 46 il nastro d'argento ex capo con Shusha Blasetti tenta con Fabio da questo grosso colossal che ho già accennato di rilanciare il cinema italiano la cosa va e non va però appunto con questa casa di produzione realizza anche Prima Comunione che è una commedia con Aldo Fabrizi del 49 interessante perché è quasi girata in tempo reale quindi sono le due ore che precedono la Prima Comunione della figlia di un borghese arricchito questo Aldo Fabrizi che quindi vuole ostentare il suo essere benestante alla Prima Comunione filmetto divertente che vale la pena recuperare in questo periodo Blasetti è coinvolto anche nella realizzazione del Don Camillo allora il motivo poi lo riassumo nel libro vado veloce è che Blasetti proprio perché stimava Guareschi avrebbe voluto mettere mano alla sceneggiatura ma voleva il beneplacito dei Guareschi Guareschi era un bel caratterino quindi diciamo Blasetti rendendosi conto che non può avere diciamo il beneplacito di Guareschi perché con Guareschi è difficile mettersi d'accordo essendoci beghe tra diverse case di produzione se ne chiama fuori e va a sfidare Dodivie sul suo stesso terreno cioè Dodivie viene in Italia a giocare Don Camillo e io mi reinvento il film a episodi che ha inventato Dodivie e nascono così i primi due Zibaldoni che sono film episodi in cui Blasetti assembla moltissime storie diverse provenienti autori due cenni velocissimi sul primo in cui mette insieme il Ballo Excelsior e il tamburino sardo quindi un'idea di un'Italia ottocentesca che faceva grandi cose in cui c'erano tra virgoletti vecchi valori con il contrasto tra il carretto dei libri vecchi con le vecchie storie dell'Italia che fu e l'edicola dove ci stanno soltanto storie di cronaca nera con i ragazzini che arrivano e prendono l'ultimo numero del settimanale dove c'è il ragazzino che ha ammazzato la nonna e che era compagno di scuola di uno dei ragazzini quindi questo momento comico assolutamente estraneante in cui Blasetti prende per i fondelli un po' l'andazzo dell'Italia di quel periodo nel secondo film Zibaldone numero due ironizza un po' sui telefoni bianchi fa un segmento con Yves Montand in cui appunto quello obiettivamente è neorealista poi appunto abbandona il filone lo lascia a se stesso perché anche il filone episodi ultimo episodio importante del primo film del primo Zibaldone è il processo di Frine dove crea la coppia De Sica o L'Obrigida che poi diventerà appunto pane, amore, fantasia tutta quella saga là uno dei dialoghisti di Blasetti si inventa anche la maggiorata quindi l'idea della maggiorata anche lì non è di Blasetti ma viene da un dialoghista di Blasetti i due film successivi realizza un'altra delle coppie celebri del cinema italiano ovvero Mastroianni e la Loren sono Peccato sia una canaglia e la fortuna di essere donna che sceneggia con Cecchi D'Amico e Flaiano di fatto segnano la nascita della Commedia l'Italiana e incominciano diciamo a esserci tutti i limiti della Commedia l'Italiana quindi dei film costruiti con le gag e non più con l'idea appunto del viaggio dell'eroe quindi meno interessanti dopo questo realizza un film un po' strano una commedia l'Italiana dove però richiama in servizio tutti i suoi attori storici con cui ha lavorato appunto negli anni 30 Gino Cervi Isa Pola Amore e chiacchiere in cui fa sostanzialmente la critica della politica parolaia che faceva negli anni 30 De Sica è l'assessore ai lavori pubblici di un paesino chiaramente un assessore o comunista o della sinistra democristiana che però viene lusingato dal grosso industriale Gino Cervi per non occultare il panorama della sua bella villa per ricostruire l'ospizio ospizio dove appunto ci stanno dei reduci cosa particolare i reduci indossano cappelli i garibaldini chiaramente nel 57 non potevano essere reduci i garibaldini ma nell'idea di Blasetti tra le righe fa capire che Fonso non è cambiato niente è sempre la stessa storia poi appunto abbiamo detto di Europa di notte questo reportage nella vita notturna d'Europa e poi l'epilogo il suo film manifesto che è una sorta di ibrido tra i mostri e otto e mezzo che si intitola io io e gli altri una riflessione episodi sull'egoismo che è fatta sia di gag con il protagonista e Walter Chiari alcune sono assolutamente fulminanti e sono quasi tutte gag ispirate a vita vissuta come quella in cui compongono un necrologio un bellissimo necrologio in una redazione del giornale e poi si scopre che il morto è ancora vivo e quindi questo bellissimo necrologio purtroppo è da buttare è anche una riflessione sul cinema sul rapporto tra cinema e pubblico belle trovate metacinematografiche c'è anche Marcello Mastroianni che era diventato appunto lanciatissimo da Blasetti e poi diventato l'attore feticcio di Fellini il personaggio di Mastroianni in questo film è il giornalista Buono e entra in scena all'interno di un cinema dove si proietta 8 e mezzo e lui esce cercando di non disturbare il pubblico da questo cinema quindi anche a livello metacinematografico Blasetti comunque è non banale poi magari il simbolismo non è molto sofisticato è il suo film testamento ma in realtà farà altri due film la ragazza del bersagliere che di fatto è Ghost il Ghost quello famosissimo con Patrick Swayze e Demi Moore e una produzione internazionale Simon Bolivar sulla storia di Simon Bolivar in cui idealmente appunto finalmente le due feste la popolare e quella borghese si uniscono insieme nel finale quindi anche questo diciamo a livello politico non così banale anche se obiettivamente Blasetti incomincia ad andare per i 70 è un film che arriva dopo lo spaghetti western e dopo lo spaghetti western impegnato di Damiano Damiani quindi su alcune cose diciamo Blasetti fa un po' fatica ma resta di un film narrativamente molto valido brevemente la televisione di Blasetti perché Blasetti tra i tanti primati è anche tra i primi registi a costruirsi la villa a Fregene villa che sembra uscita dalla scena delle beffe quindi che poi diventerà dove appunto Fellini e tutto il gota del cinema italiano si farà la villa a Fregene Blasetti ovviamente tra i primi ed è tra i primi registi a fare televisione tra le cose di televisione che fa Blasetti ricordiamo due cose innanzitutto la lunga strada del ritorno che è un reportage un documentario sui militari italiani nella seconda guerra mondiale e sui prigionieri di guerra italiani i prigionieri di guerra degli inglesi dei tedeschi dei sovietici quindi un reportage molto crudo in questo documentario tutto è estremamente neutro cioè viene intervistato Mario Rigoni Stern che già era abbastanza famoso perché aveva già pubblicato Il sergente della neve ma se tu non sai che è Rigoni Stern che sta raccortando Il sergente della neve non ti viene detto però Blasetti gli unici personaggi che decide di rendere riconoscibili a chiunque in quel documentario sono i ragazzi di Birer Gobbi quindi quei reduci in cui sostanzialmente Blasetti nel 43 aveva detto ma io cioè che senso ha fare un film di propaganda oggi nel 43 con la guerra che sappiamo come va a finire tutto siommato nel 60 trova modo di omaggiarli alla sua maniera poi nel 70 torna a confrontarsi con l'unità d'Italia con una docufiction Napoli la fine dei Borboni dove racconta quello che ha già raccontato nel 1860 da punto di vista opposto e anche qui ritroviamo la chiave di lettura di Blasetti che è un po' un po' populista non è assolutamente diciamo un'opera neoborbonica salva un po' Franceschiello come vittima degli eventi e dipinge appunto il regno delle due Sicilie come una società al collasso per colpa dei governanti un po' il refrain di tutta l'opera di Blasetti questa amarezza di fondo la ritroviamo anche nell'ultimo lavoro televisivo che fa con lo sceneggiatore di Napoli la fine dei Borboni Lucia Mandara che è molto attivo in soggetti e sceneggiature collabora anche come dialoghista al segno del comando probabilmente sull'orizzonte degli eventi l'abbiamo già citato perché è autore di quello sceneggiato extra che introduce per la prima volta il tema degli alieni e dei men in black nel pubblico italiano Mandara per tra i due vorrebbe fare appunto fantascienza utopistica cose cose belle blasetti che di fantascienza non aveva mai capito nulla e come dice da vecchio romano di una volta per me la fantascienza erano solo frescacce capisce che in realtà tutto quello che poteva dire forse lo poteva dire proprio grazie alla fantascienza perché la fantascienza è speculativa la fantascienza permette di riflettere su quello che verrà e si innamora diciamo che una puntata dell'orizzonte degli eventi non può mancare di Brave New World di Huxley prova a convincere Rai 2 a dire non facciamo la serie antologica facciamo lo sceneggiato di Brave New World probabilmente la Mondadori si mette in mezzo quindi non dà i diritti per fare lo sceneggiato e quindi blasetti deve ripiegare su una serie di racconti leggerà comunque in diretta un estratto del mondo nuovo di Huxley facendo una frecciatina al fatto che queste sono opere da far conoscere e non si capisce perché gli editori non la vogliano far riconoscere e mette in scena appunto sono tre puntate con tre cortometraggi ciascuna la prima sui misteri del tempo e dello spazio la seconda i robot e la terza quella più propriamente distopica i mostri dentro di noi in realtà non sono cose nuove eravamo già abituati ai confini della realtà però guardando questa mini serie di blasetti nell'ultimo episodio negli ultimi due episodi c'è proprio la sensazione di assistere a un black mirror ante litteram quindi non c'è lo svago che ogni tanto c'era in ai confini della realtà qui appunto è tutto un raccontare un divenire negativo perché sceneggia l'esame di richard mattheson con il vecchietto che se non supera l'esame viene etosanizzato c'è nuovamente la decima vittima di robert shakley e c'è anche un bel cortometraggio sulla guerra atomica che è ubbien in arrivo questi sono tutti e tre nell'ultima puntata nella seconda puntata è interessante anche ultimi riti che è una sorta di riflessione tra un robot un robot in punto di morte una riflessione sulla morte da parte di un robot quindi appunto idee interessanti belle messe in scena probabilmente come decima vittima proprio perché sono dieci minuti è quasi più interessante di quella di Elio Petri e questa idea appunto di vedere la fantascienza la distopia come avvertimento per quello che sarà questo è l'ultimo lavoro di Blasetti e però non cessa di stupire tant'è che al suo funerale nel 1987 nella chiesa degli artisti di Piazza del Popolo Santa Maria in Montesanto quasi completata l'omelia il sacerdote officiante dice e adesso lasciamo dare l'ultima parola a Blasetti con un nastro registrato in cui riflette un po' come aveva fatto con quel film con quella specie di otto e mezzo di Blasetti Io, Io e gli altri in cui appunto una riflessione sul senso del cinema e sul evitare l'egoismo che poi appunto per Blasetti era quello che poi portava qualunque cosa al male beh direi che abbiamo ritratto un personaggio straordinario non solo per la poliedricità tu prima hai citato Kubrick effettivamente è un regista che ha viaggiato lungo tutti i generi e alcuni li ha creati addirittura sembra di praticamente di avere raccontato un po' la storia proprio del cinema italiano in tutti i suoi manca veramente poco non so che cosa forse il western non un po' con simon bolivar ma anche con palio perché all'inizio di palio c'è il c'è il fantino del palio che che cavalca senza sella in questo campagna senese con i calanchi un po' un po' desertica quindi anche quello è un western guardandole appunto obiettivamente sono film con un ritmo con delle tempistiche un po' un po' diverse dal solito ma se diciamo dimezziamo il minutaggio della corona di ferro sembra un trailer del trono di spade lo stesso livello di tradimenti e di morti ammazzati che poi appunto lo stesso Blasetti stigmatizzerà negli anni 50 con il memorabile apertura dello Zibaldone con i ragazzini che vanno a comprarsi il settimana di cronaca nera è lui che sdogana il nudo però appunto anche su quello riflette nel nel dopoguerra però appunto tutto quello che ha fatto in qualche modo ce lo siamo ritrovato perché bene o male chi ha fatto cinema tra gli anni 30 e gli anni 50 Blasetti c'era sempre e questa cosa è evidente anche dal fatto di come Blasetti certe volte compaia come cliché nei film di altri autori come in abbiamo detto in bellissima e in altri film vestito sempre uguale quasi come se fosse appunto un qualcosa fuori dal tempo ma addirittura in splash di Maurizio Nicchetti film dei primi anni 80 Nicchetti comico una cosa completamente fuori dagli schemi lo sketch iniziale in cui c'è il regista che fa spogliare le aspiranti attrici è chiaramente una caricatura di Blasetti che parla con che si esprime solo col fischietto certe prodezze tecniche io ho parlato di piani sequenza ma c'è in Fabiola un momento quasi alla Matrix perché il martirio di San Sebastiano viene letto come voce fuoricampo il Vangelo Apocrifo di San Giacomo c'è una grande villa romana tutto si ferma e la telecamera fa una carrellata in mezzo a queste persone che sono come statue di sale perché si era fatto costruire una piattaforma idraulica per la sua telecamera capace di movimenti che appunto quasi impensabili per l'epoca se andiamo a vedere anche per carità Max Hofuls Zalatov faceva i miracoli ma Zalatov prendeva il cameraman e lo appendeva alla gru però appunto c'è in Blasetti una fluidità di macchina che non anche la scena finale della corona di ferro con la fenditura nel terreno che si apre è la stessa la stessa scena mostrata altrimenti in quadratore diverse siamo quasi con i giochi alla alla Fratelli Vaciowski alla Matrix quindi lui inventa brevetta nel 1928 la GoPro di fatto era realizzabile per la tecnica dell'epoca ma si immagina già qualcosa che va oltre anche la steticam quindi c'è tutta una ricerca tecnica in cui attorno a film che magari appunto oggi non tutti sono invecchiati benissimo fa via oggettivamente a dei tempi impensabili per il cinema di oggi ma ci stanno dei virtuosismi tecnici ma sempre calati nella narrazione non c'è l'effetto speciale fino a se stesso ecco quindi sicuramente un genio del cinema un grande innovatore un grande di quei personaggi che sanno anticipare il futuro e portare nel loro tempo quello che sarà poi il cinema del futuro figure che oggi diciamo non è che ce ne siano più anche perché appunto indirettamente si sono cancellate queste queste storie cioè io dico un film come appunto Un giorno nella vita quello del 46 che ripeto è considerato all'epoca pari merito di Shusha che oggi non lo possiamo recuperare come un come un tentativo di di riconciliazione nazionale come una visione ma per dire c'è uno dei collaboratori storici di Blasetti Aldo Vergano che comunista della prima ora e che quindi diciamo riesce a lavorare tutto sommato un po' perché in realtà il fascismo faceva una sorta di tolleranza repressiva come dicono alcuni autori nel 46 realizza Il sole sorge ancora che è un film prodotto da Lampi e che di fatto è una specie di copia conforme di 1860 anche questo qui che è un film che appunto dovrebbe essere osannato anche questo è un film totalmente totalmente rimosso però perché appunto il cinema italiano come appunto raccontavano Giannacone e Marchesini dal 44 al 50 è solo quel tipo di neorealismo solo lo Shusha il paesà e appunto le macerie e queste storie senza senza né capo né coda che te le fai piacere perché i critici dicono che ti devono piacere ma che poi allo spettatore bene quindi ti ringrazio Enrico perché anche se abbiamo raccontato tanto di questo regista ma perché c'era tanto da raccontare e non si poteva non non mettere assieme tutte queste tessere per vedere poi il ritratto il mosaico completo di questo di quest'autore tutto il resto è si trova in questo libro che ha iscritto questa biografia Alessandro Blasetti il padre dimenticato del cinema italiano appena uscito per idrovolante edizioni una storia del cinema italiano dal punto di vista di uno dei suoi fondatori possiamo dirlo di uno dei suoi pilastri dei suoi pilastri sì quindi diamo ad Alessandro che era di Alessandro giustamente bene io ringrazio Enrico Petrucci invito a a leggere acquistare questo libro ti invito a tornare grazie a te come sempre appunto speriamo di tornare presto anche perché appunto gli argomenti sono sono sempre tanti quello che manca un po' il tempo di prepararli certo grazie Enrico Petrucci arrivederci a tutti ciao a tutti grazie 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 a tutti